Ciao, questo è un video velocissimo per mostrarvi cosa ho realizzato per un'amica che intanto saluto, ciao Gabri se vedi questo video cosa mi ha dato? in sostanza ha visto che in passato ho esposto gli anelli bottone che avevo preso oltretutto in una fiera pagandoli comunque un sacco dai francesi anche se comunque la qualità dei bottoni è davvero ottima appunto questa ragazza mi aveva accennato che aveva anche lei dei bottoni molto carini in casa e che avrebbe comunque guardato nella suo cassettino dove li teneva e mi avrebbe mandato tramite appunto il marito dei bottoni da vedere e così ha fatto, me ne ha mandati veramente tanti era una bella scatolina piena 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 di bottoni e ne ho scelti alcuni che poi vabbè mi darà adesso appunto il marito me li sistemerà togliendomi con l'attrezzo giusto che adesso in questo momento non mi viene il nome mi toglie la parte sotto in modo che dietro sono piatti e posso appunto attaccare alle basi piuttosto che lavorarli meglio quando mi ha dato questi bottoni mi ha dato dei bottoni in metallo che aveva trovato e voleva una parurra per lei voleva che li facessi con quei due grandi un anello e un ciondolo e quelli proprio piccolini un paio di orecchini mi ha gentilmente sempre appunto il marito staccato dietro dalla parte di metallo diciamo l'anellino che c'era che non riuscivo a staccare con una semplice pinza me l'ha piattito e quindi me le ha dati ed erano già pronti per poter attaccare alle basi io poi ci ho messo un po' a trovare le basi giuste soprattutto per gli orecchini perché comunque sono dei bottoni ma sono in metallo quindi sono abbastanza pesanti e adesso vi mostro il risultato allora partiamo con l'anello allora l'anello è questo vedete è un bottone proprio in metallo con una pietra verde è un po' più acceso rispetto a quello che vedete ma è davvero molto bella non ho fatto nient'altro che agganciare con la mia colla attack gel alla base e guardate è una bomba quella colla perché non si muove e oltretutto anche se penso che l'ausolit è la migliore non ho avuto problemi nell'attaccare perché l'ausolit tende comunque a essere un po' scivolosa all'inizio bisogna stare lì veramente tanto prima che si blocchi un po' il tutto quindi questo è l'anello che appunto le ho realizzato con il bottone più grande ho deciso di attaccare ad una filigrana e quindi questo è il risultato questo è il bottone uguale esattamente l'anello l'ho incollato sempre con la mia attack gel a una filigrana che appunto mi piaceva e che secondo me era adatta era la più adatta di quelle che avevo è molto molto carina e poi l'ho attaccata in una catena davvero semplice moschettone, anellino e il gioco è fatto oltretutto vi mostro soltanto come ho attaccato il tutto volevo mettere una pinzetta ma i bucchi delle filigrane erano laterali mi sbilanciava un po' la creazione per cui ho messo due anellini ho fatto tipo una rosetta e alla rosetta ho attaccato un altro anellino più piccolino che è l'anellino che poi passa dentro la catena spero di essere stata chiara insomma veramente oltretutto dal vivo è proprio molto 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 luminosa questo è sera, è quasi mezzanotte per cui insomma non si vede bene il tutto però è veramente bella gli orecchini gli orecchini sono questi li ho fatti a lobo ecco questo il verde forse si vede un po' più acceso effettivamente è un po' diverso rispetto a questi qui però la parura è perfetta secondo me comunque ha gli stessi motivi e la stessa fantasia e anche qua era un anello e non ho fatto nient'altro che agganciarlo ad una vediamo se riesco a staccarne una senza far danni ecco sempre con l'attacca gel ad una base anche qui ho cercato la base giusta perché ne avevo trovate un po' più piccoline mi sembravano veramente poco resistenti per comunque un bottone comunque una questa base questa specie di bottone che è abbastanza grosso comunque è pesante perché comunque vi ricordo che è di metallo e niente quindi questi qui sono poi gli orecchini che appunto li ho creato dietro c'è una farfallina e niente ecco io ve li ho mostrati perché finalmente si sono asciugati gli orecchini che ho trovato le basi giuste oddio mio io con una mano non riesco a fare un tubo allora già vediamo se riesco ok a me come parure piace come è venuta piace davvero davvero tanto comunque è una parure carina essendo comunque dei bottoni è venuta bene spero che le piaccia tanto a Gabri e niente insomma vi ho mostrato questa piccola questo piccolo lavoro che ha realizzato dove comunque non è che ci ho messo chissà che cosa soltanto ho cercato di metterglieli bene ecco in modo che non avesse problemi con le basi e con le filigrane trovando la colla giusta che oltretutto vediamo se ho qui io ve la mostro no non trovo mi sa che l'ho dimenticata al pieno di sotto vabbè niente male che vada se volete vedere quale uso ditemelo che magari in un prossimo video di creazioni prendo due minuti e vi mostro il tutto niente io con con questo è tutto a breve ci saranno nuovi video mi scuso ma veramente il tempo in questo periodo è veramente pochissimo che ho per poter dedicare alle creazioni e niente io vi mando un bacio ciao ragazzi